Buongiorno a tutti, sono Anna Finocchietti, sono psicologa, psicoterapeuta e all'interno del progetto con il quartiere 3 e il teatro La Fratellamento, di cui abbiamo fatto una presentazione prima di questo incontro, vi accompagneremo per tutto il periodo estivo con una sorta di rubrica settimanale in cui affronteremo un po' i problemi che riguardano i malati di Alzheimer o comunque di demenze e tutti i familiari coinvolti, in particolare quelli coinvolti più direttamente nella loro cura e che intanto uso un termine che ritroverete e che riutilizzerò anche in seguito, che vengono definiti caregiver. Quindi chi si occupa di una persona cara, di un malato è un caregiver familiare. Questo è stato un periodo molto pesante e molto faticoso per tutti, questa emergenza Covid-19 ha messo ovviamente, ha fatto vivere a chiunque un periodo di grande difficoltà. In modo particolare credo a voi familiari che vi prendete cura di un malato perché è saltato tutto quanto poteva esservi di supporto, supporto all'assistenza già usualmente forse non sufficiente a coprire tutte le necessità ma che certo in questo periodo è venuto a mancare completamente. L'assistenza e il supporto che i vostri cari ammalati avevano, che soffre, frequentando un centro diurno piuttosto che facendo altre attività, caffè, alzheimer o altro, la stimolazione cognitiva, ovviamente si è bloccato tutto e il fatto che si sia bloccato tutto ha fatto sì che il peso che è ricaduto sulle famiglie in modo particolare appunto a chi più direttamente se ne prende cura sia stato un peso che è andato ad aggiungersi già a tutte le difficoltà che come caregiver si incontrano nella cura appunto di un malato. Quindi questi incontri vogliono essere non certo un sollievo o un reale supporto ma un modo perché pur in assenza di concreti aiuti esterni possano costituire delle piccole pillole che vi accompagnano durante tutto il periodo estivo su cui fare magari delle riflessioni o che vi possono essere di aiuto nella comprensione di qualche aspetto così difficile da gestire in questa malattia. Se alla fine di ogni incontro o alla fine di tutti questi incontri che si spera poi a settembre possono trasformarsi in qualche cosa di più in vivo quindi di più coinvolgente più diretto se alla fine di questi incontri vi rimarrà una qualche riflessione o comunque vi avranno aiutato a cambiare qualche cosa nel rapporto nel comportamento di relazione con il vostro malato o vi avrà fatto sentire più sereni o avrà fatto vedere sentire il vostro caro più sereno e credo che forse l'obiettivo è stato raggiunto. Ovviamente non ci possiamo occupare e non potremo dare risposte a tutte le esigenze che sono tantissime e su vari fronti. Abbiamo scelto alcuni alcuni punti su cui quindi mi soffermerò. I nostri incontri punteranno su tre aspetti sostanzialmente quello un po' di vedere le problematiche più specifiche dal punto di vista vostro cioè del caregiver di chi si prende cura e di come di quali possono essere le modalità con cui prendersi cura e delle aspettative che ci sono dietro a queste modalità. L'altro qualche spunto per la gestione dei comportamenti problematici che questi malati danno e ci pongono veramente sono delle grandi sfide. Penso ai problemi di rifiuto di fare l'igiene piuttosto che del cosiddetto vagabondaggio poi capiremo meglio piuttosto che la difficoltà di comunicazione o altre. Vorrei però dedicare poi un po' gli ultimi incontri anche a quello che è il prendersi cura di noi stessi, cioè prendersi cura come caregiver. In questo mi viene da usare una metafora che poi riprenderemo e rivedremo meglio. Quando siamo in aereo, credo che più o meno tutti, o l'abbiamo visto almeno nel film e se non l'abbiamo vissuto di persona, quando la hostess, l'assistente di volo, dà le prime spiegazioni e dà istruzioni sulla mascherina dell'ossigeno, la prima cosa che viene raccomandata è di essere noi per primi a prendere l'ossigeno per poter eventualmente essere di aiuto agli altri. Ecco questa è un'idea che avremo modo di riprendere ma che sarà un po' il filo conduttore di come prendersi cura di se stessi. La riflessione che voglio fare oggi con voi è un po', dicevo prima, quella su che cosa nel momento in cui mi prendo cura del mio caro, che cosa mi aspetto, che cosa ho in testa? Perché questo è importante e dà delle conseguenze. In molti di noi, e dico di noi anche perché anch'io sono caregiver, c'è a volte l'idea che prendendomi cura, facendo determinate cose, seguendo determinate cure farmacologiche o facendoli fare certe attività, posso in un qualche modo fermare la malattia, posso contribuire a una sorta di guarigione, cioè c'è in testa quell'idea di guarigione che abbiamo in molte malattie. Un mio familiare subisce l'intervento chirurgico per una malattia, bene so che le mie cure nel periodo di convalescenza li saranno sicuramente di supporto e di aiuto per una migliore guarigione. Ecco purtroppo le demenze e l'alzheimer non ci permettono di poter avere un obiettivo di questo tipo. La malattia non è guaribile, non è guaribile con tutto l'impegno che medici, ricercatori, familiari ed altre figure possono sormetterci, è un'aspettativa irrealistica. È un'aspettativa che porta ad aspettarsi qualcosa che ci porterà sicuramente a sentimenti di frustrazione, di impotenza, di inefficacia e forse a chiedere a noi stessi appunto qualcosa che non è realistico. Un altro modo con cui possiamo affrontare è quello invece dell'idea di rallentare, di rallentare in qualche modo la malattia. In questo diciamo è parzialmente realistico come obiettivo perché se il malato lo vedo come ormai una situazione, una condizione, una malattia che appunto non ha nessuna speranza, quindi non c'è niente che posso fare è chiaro che il decadimento sarà molto più rapido. Se mi adopero in qualche modo per dare degli stimoli di vita che possono essere più o meno strutturati perché può essere la passeggiata, il film alla televisione piuttosto che l'ascolto della musica, così come possa essere delle stimolazioni più strutturate come vi verranno anche date nel corso di questi nostri appuntamenti, è chiaro che questo obiettivo è realizzabile. Contiene però in sé ancora forse un pezzettino di quella che con la quale concluderò è un'idea di non accettazione fino al fondo della malattia. In ogni caso è un obiettivo parzialmente raggiungibile. C'è invece un obiettivo su cui voglio portare la vostra riflessione che è quello forse più realistico, più importante di migliorare la qualità di vita di una persona della quale bisogna conservare al massimo la dignità pur essendo malata e la qualità della vita questo è un obiettivo realistico perché la malattia farà comunque inesorabilmente il suo corso. Non possiamo pensare di fermarla, non possiamo pensare di farla regredire, possiamo pensare che mentre la malattia progredisce possiamo invece fare in modo che il nostro caro viva la propria vita in modo più dignitoso e più sereno possibile e noi con loro perché come vedremo questo è un dato molto importante. l'Alzheimer e le demenze vengono definite malattie familiari perché tutta la famiglia di fatto ne è coinvolta e avremo modo anche di riprendere questo aspetto. Quindi l'essere realistici, porsi degli obiettivi che siano realistici, raggiungibili. Io credo che questo è anche possibile se vi propongono piccolo esercizio di osservazioni. Credo che in ogni giornata, per quanto ci siano tantissimi momenti di difficoltà, poi dipende anche dalla gravità del malato di cui vi prendete cura, è chiaro che se è allettato è diverso che se è ancora autonomo nel prendersi cura delle proprie cose, alquanto meno dell'igiene piuttosto che di una passeggiata. Sono ovviamente problematiche diverse che sono una sfida quotidiana mano a mano che la malattia procede. Però se ogni giorno cogliete un aspetto che avete condiviso o che vi è ritornato in modo gratificante, abbiamo fatto una passeggiata insieme, l'ho visto contento, gli ho proposto un'attività e l'ho visto uscire dalla passività nella quale solitamente si trova, l'ho visto sorridere e invece tendenzialmente è sempre triste e depresso. Abbiamo avuto uno scambio, una comunicazione dove magari non ci siamo detti chissà che cosa, però mi sono sentita coinvolta nella relazione perché di fatto poi la relazione è la cura. Ecco, scrivetevelo, ottenete una sorta di di diario di questi eventi positivi. Questo vi aiuterà a sentire che potete essere efficaci, che potete fare qualche cosa, perché questo è qualcosa che va a direzione della qualità della vostra vita, della vostra relazione con il malato e della qualità della vita del malato. E vi vorrei vorrei chiudere questo nostro prima chiacchierata, questo nostro primo incontro con un messaggio riassuntivo, una riflessione che voglio lasciare. Quello del posso e non posso. Ci sono dei vincoli molto stretti che la realtà ci pone e la malattia di Alzheimer ci pone tantissimi limiti, per cui ci è molto facile vedere ciò che non si può più fare, ciò che il nostro caro non può più fare e che noi non possiamo più fare perché non lo possiamo più realizzare. Ecco, mi piacerebbe potervi lasciare invece con la riflessione che ogni vincolo, ogni limite è qualcosa che c'è ma dentro il quale noi possiamo trovare delle possibilità di fare qualcosa. L'esercizio che vi ho suggerito è una prima possibilità. Grazie, ci vediamo.